Una visita ispettiva sorpresa del vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, accompagnato dai consiglieri comunali di Montesilvano del Movimento Gabriele Straccini e Giovanni Bucci, ha messo in luce le enormi criticità addetta dei pentastellati del distretto sanitario in Via Dagnese a Montesilvano. Un distretto nuovo e già vecchio, ha detto il consigliere Pettinari questa mattina in conferenza stampa. Una settimana fa abbiamo effettuato con i nostri consiglieri comunali Bucci e Straccini una visita ispettiva e un sopralluogo nel distretto e abbiamo trovato una situazione catastrofica. Distretto sanitario e medicina territoriale così non può funzionare. La cosa che mi sta più a cuore è che ci sono l'ecografo al servizio delle branche specialistiche che non funziona bene. Un giorno funziona e un giorno si sfascia. Spesso hanno chiesto la sostituzione e non è stato mai sostituito. L'apparecchiatura al servizio dello specialista oculista, stessa cosa. Spesso si sfascia. Hanno chiesto la sostituzione e non è stato mai sostituito. Allora basterebbe solo questo per dire che la medicina territoriale non funziona. Nella medicina territoriale l'ecografo è lo strumento di base che è come la pala per il muratore. Se non abbiamo gli ecografi funzionanti o gli ecografi adeguati significa che il cittadino non può fare prevenzione, si ammala sempre di più, si ingolfa all'interno del pronto soccorso, entra tutto all'interno del pronto soccorso di Pescara e i reparti scoppiano. Questo è un vero dramma e poi ascoltiamo l'assessore che dice che realizziamo il nuovo ospedale facessero funzionare quello che funziona. Abbiamo trovato tutta un'altra serie di anomalie. Non va il disservizio che viene arrecato all'utenza. L'utenza purtroppo, che tra l'altro ci dicono i dipendenti, è in forte aumento. Quando arriva qui non trova le giuste cure necessarie perché manca la strumentazione. Ci sono liste di prenotazione lunghissime. Gli addettici lamentano la mancanza di strumentazione, per esempio, di ecografi nel reparto di ginecologia. Anzi, il reparto di ginecologia per fortuna è fornito di nuovi ecografi. Sono gli altri reparti specialistici che si devono passare l'ecografo di volta in volta e quindi avere liste che si allungano notevolmente e purtroppo devono rivolgersi a delle strutture private. Il cittadino normale, comune, non ha questa assistenza che vorrebbe, che dovrebbe dare un distretto sanitario di base posto in queste condizioni.